Mirko Eramo, complimenti per il gol, complimenti per la vittoria, raccontaci allora l'azione che ti ha portato alla conclusione. Sì, è stata un'azione veloce, non ricordo da dove è partita, penso da Dario Saric che ha recuperato la palla, l'ha passata Puccino, Raffaele mi ha visto fuori aria, gli ho chiamato la palla, è stato bravo a metterla, io ho deciso di calciare di prima e è andata bene, sono contento per questo gol. La dedica per chi è? Hai guardato il cielo quando hai segnato. Sì, sì, dedico tutti i miei gol a mio nonno che non c'è più, che ci teneva tanto a me e che mi seguiva sempre, e poi ovviamente la dedica è anche per mia moglie, i miei figli e per tutta la mia famiglia che nonostante il periodo difficile che ho vissuto prima di questo mese mi sono stati sempre vicino. Appunto in questo periodo, quando eri fuori, quando non eri convocato, come hai vissuto questi mesi e cosa è cambiato per te con l'arrivo di Sottil? Sì, sono stati mesi difficili perché volevo dare qualcosa a questa squadra e penso di poter dare una mano anche fuori dal campo con la mia esperienza, visto che è una squadra molto giovane, penso che potevo dare qualcosa anche prima, però ormai passato è passato, ringrazio il direttore Polito e il mister Sottil che mi stanno dando grande fiducia e penso solo al presente e a fare bene da qui alla fine. Quanto vale per l'Ascoli questa vittoria? Penso più di tre punti perché moralmente eravamo un po' abbattuti a fine primo tempo, eravamo sotto e quindi però questo gruppo è cambiato, con l'arrivo del mister non si abbatte mai e nella prova è il secondo tempo, non ci siamo accontentati del pareggio e volevamo vincere la partita quindi questa è la strada che dobbiamo seguire, non abbiamo fatto ancora niente perché la strada è lunga però penso che la strada è quella giusta. Il tuo è stato un gol fondamentale che ha riaperto la partita, quanta fiducia senti da parte del mister? Sì, è stato un gol fondamentale per la prima partita però penso che tutta la squadra stava girando bene, al massimo. La fiducia il mister l'ha trasmessa a tutti, non solo a me, il mister è arrivato con tanta carica e tanta positività ci ha liberato la testa da tutte le scorie negative che avevamo e dai mesi difficili che abbiamo vissuto all'inizio dell'anno e questa squadra ha dei valori importanti quindi penso che non merita questa classifica e i risultati che stiamo facendo ultimamente ne sono una dimostrazione. Che giudizio hai dell'Ascoli con i nuovi arrivati? Oggi ci sono stati tanti innesi, tanti esotti. Penso che abbiamo fatto un notevole salto di qualità, sono giocatori importanti per la categoria non devo presentarli io, uno su tutti Federico Dionisi che oggi era la prima partita dopo non so quanto tempo ma si è calato subito nella situazione, sembra che è con noi dall'inizio dell'anno però tutti i nuovi arrivati sono arrivati con la mentalità giusta chi gioca di più, chi gioca di meno, tutti siamo importanti e penso che la nostra forza in questo momento è proprio l'unità del gruppo. Grazie e complimenti. Grazie.